Il turismo nella nostra provincia non ha più stagione, quelli che ancora si soffermano a parlare di destagionalizzazione parlano un linguaggio del passato. Oggi sappiamo che dobbiamo lavorare per un turismo di 365 giorni all'anno, perché è vero che l'offerta balneare è quella più importante della nostra provincia, ma è altrettanto vero che la primavera, col turismo scolastico, con i nostri musei, l'autunno con le fiere autunnali dedicate all'agroalimentare, fanno sì che la nostra provincia è una provincia che deve lavorare per un turismo tutto l'anno. L'itinerario della bellezza è il progetto di punta di Confcommercio per valorizzare i nostri territori. Come dicevi giustamente nel mese di ottobre abbiamo avuto l'adesione del comune di Apecchio, quindi siamo a 14 comuni, ma siamo già in procinto di confermare altre entrate, altri comuni. Lo comunicheremo prima del 15 di dicembre, dove ci sarà la convention dell'itinerario della bellezza 2021-2022. Proprio ieri abbiamo avuto conferma della riconfermata adesione da parte del comune di Fossombrone, c'è stata una gara sul MEPA che abbiamo vinto, abbiamo quindi confermato la gestione dell'ufficio IATE, dei servizi museali del comune di Fossombrone. Siamo in procinto di partire con il nuovo itinerario archeologico, che sarà presentato il 25 di novembre a Pestum, alla borsa del turismo archeologico, dove io e il vice sindaco di Pesaro, Vimini, presenteremo anche il nuovo museo oliveriano e un'altra iniziativa del comune di Pesaro, oltre all'itinerario archeologico. Quindi insomma non ci fermiamo veramente, anche perché stiamo già lavorando per presentare a febbraio a Milano e il nuovo itinerario della bellezza, ma anche la novità assoluta che è l'itinerario del mototurismo delle Marche, che vedrà la realizzazione di 15 percorsi per mototuristi, tre per ogni provincia, e sarà veramente la novità dell'anno per la nostra regione.